Bene, iniziamo una serie di lezioni su Packet Tracer, su Cisco Packet Tracer, nella versione 5.1 Packet Tracer è un software di simulazione che vi consente di immaginare degli scenari con degli apparati che possono essere end devices come computer, switch oppure router e simulare un trasferimento in rete Packet Tracer consente di definire tutte le interfacce di rete che si desiderano di assegnare i parametri di rete e di impostare le informazioni di routing Allora, inizieremo con alcuni scenari e inizieremo dai primi, più semplici, per poi via via renderli più complessi Allora, ecco qua, intanto, quando avviate Packet Tracer avete un video simile a questo Come vedete in alto c'è la barra tradizionale del salvataggio, dell'apertura di un di uno scenario Packet Tracer, la stampa e così via In basso avete una parte molto importante che sono tutti gli strumenti che potete aggiungere al vostro scenario router, switch, hub, cavi e quant'altro e infine sulla destra vedrete degli strumenti che ci serviranno già nella lezione di oggi Allora, cosa vogliamo fare? Prima di tutto vogliamo collegare due PC, quindi due LAN private, con un router e provare a vedere se l'operazione di routing da una LAN all'altra funziona Sceglieremo due reti private, la prima una barra 24 e la seconda una barra 16 Una 192.168.00 e la seconda 172.16.00 Allora, iniziamo ad aggiungere gli elementi al nostro scenario Prendiamo un router e impostiamo qui Prendiamo il primo 1841, che è uno molto semplice Clicchiamo e lo aggiungiamo qui Ora ci colleghiamo i due PC Andiamo in basso dove c'è scritto End Devices Prendiamo un generico dispositivo Ricordatevi sempre di cliccare sul dispositivo E poi ricliccare nella zona in cui lo volete collegare PC0 e PC1 Rete 0 e Rete 1 Dobbiamo collegarli con dei cavi Clicchiamo su Connections E vedete che qui avete a disposizione una serie di connessioni Che vanno dal cavo console ai cavi in rame dritti o incrociati Fino alle fibre ottiche e così via Per questo primo scenario faremo un errore Così vi faccio vedere come fate ad accorgervi se avete scelto il cavo corretto Collegheremo l'interfaccia FastEther del PC con quella del router Ecco intanto vedete che se voi lasciate il cursore sul router E automaticamente vi compare una finestra in cui vedete quali sono le interfacce di rete già presenti Nel nostro caso ci serviranno la FastEthernet 0 e 1 Che per ora non hanno parametri e quindi hanno solo il MAC address Allora mettiamo un cavo dritto Scelta sbagliata sul PC0 Lo colleghiamo alla FastEthernet E successivamente sul router 0 alla FastEthernet 0 Il cavo per ora non è funzionante Vedete che ci sono i pallini rossi Poi prendiamo un crossover Che è il collegamento corretto tra il router e il PC E vedete che il cavo, il tipo di collegamento vi indica già la tipologia di cavo Per ora i cavi sono non funzionanti Allora adesso dobbiamo andare a impostare i parametri di rete Iniziamo dal router Allora cliccando sul router vedete che compare una finestra In cui avete il router Di cui potete aumentare le dimensioni Che ha già collegate due interfacce FastEthernet 0 e 1 Qui c'è il cavo console e la OX Spermendo questo pulsante il router si spegne o si accende Naturalmente potete aggiungere delle interfacce Trascinandole dalla parte sinistra all'interno dello slot che vi interessa Ricordando che dovete spegnere l'interfaccia Ma non lo faremo in questa lezione Ora Se cliccate in alto su click vedete che il nostro router è partito e ci sta chiedendo se vogliamo configurarlo Allora abbiamo due possibilità Possiamo dargli no e far dare i comandi a mano In alternativa cliccando su config possiamo usare una interfaccia grafica al posto dei comandi Facciamolo per i primi comandi Chiamiamo il computer Torino Ecco qua E vedete che se io vado qui nella CLI Trovo tutti i comandi che avrei dovuto dare per fare la stessa identica cosa E cioè avrei dovuto abilitare la Centrare modalità privilegiata Vedete col comando enable Dire che volevo entrare in global configuration mode Cioè configurare il mio router Col comando configure terminal E vedete che qui ho config E dare il nome dell'host o sname Torino Adesso Invece dando i comandi a mano Proviamo a configurare l'interfaccia del router Allora devo andare in Interface Prendiamo la prima Fast Ethernet Ricordatevi sempre che col tab completate il comando E iniziamo dalla prima Gli diamo un IP Che sarà 192.168.0.1 Ok? Con netmask.0 No shutdown Consente di far partire la macchina Infatti vedete che l'interfaccia è cambiata app Facciamo usando la stessa cosa per l'altra interfaccia La 0.1 Usando il config L'interfaccia è questa Ok? Questa qua Possiamo dare qui l'IP address Che sarà un 172.16.0.1 E netmask Già mi E' qui 255 Già di default Vedete che mi corrisponde Se voi non ricordate i comandi Lo potete fare qui E vedere quale sarebbe stato il comando corretto La portiamo on Con no shutdown Ok? Quindi vedete che avete Questa doppia possibilità Exit Ok Andiamo qui Exit Se io faccio Show IP Interface Ah no scusate Devo uscire dal config Exit Show IP Interface Brief Mi dice Guarda tu hai una fasteter 0.0 Che è up Vedremo poi che il protocolle è down Chissà come mai E la fasteter 0.1 Questa è up Ok? Bene Allora Chiediamoci perché Una è andata up E l'altra è down E il perché è semplice Perché abbiamo sbagliato il collegamento Cioè Questo è un cavo errato E questo è un cavo corretto Un cross è corretto E uno straight è sbagliato Allora Non ci rimane Che Cancellare Il cavo E sostituirlo con un cavo corretto Quindi questa è una cosa già interessante Eccolo qua Benissimo Adesso dobbiamo Impostare I pc Quindi partiamo da pc 0 E qui abbiamo la stessa cosa di prima Abbiamo il nostro pc Che è acceso Qui abbiamo la configurazione Che per ora è vuota E vi faccio vedere una cosa interessante Che è questa Cioè Questa è un'interfaccia Che Più interattiva Che vi consente In maniera semplice Di impostare i parametri di rete Di passare al command prompt Allora Immaginiamo Di andare in risorse di rete Clicchiamo su questa Icona E impostiamo I nostri parametri di rete Allora IP address Dunque Mi pare che questa fosse 192 168 0 Siccome l'1 è il gateway Gli diamo il 2 E il default gateway Invece è l'interfaccia del router 168 0 Ok Vediamo se abbiamo fatto le cose correttamente Ok Dovrebbe essere corretto Adesso andiamo sul pc 1 Facciamo la stessa identica cosa Desktop Questa volta gli diamo il 172 16 0 2 Subnet mask E default gateway 172 16 0 1 Ok Perfetto 172 Perfetto Allora Vediamo adesso di dare un comando Cioè proviamo a dare un ping Dal pc 0 Al pc 1 Ci posizioniamo sul pc 0 Eccolo qua Run Intanto possiamo fare un ipconfig Per essere sicuri che i parametri di rete siano corretti Poi come prima cosa possiamo provare a pingare da qui l'interfaccia del nostro router qua E quindi facciamo un bel ping 192.168.0.1 E ci risponde Pinghiamo l'altra interfaccia del router Che è la 172.16.0.1 E ci risponde Proviamo adesso Passando ovviamente attraverso il router A fare un ping All'altro pc 1 Il comando sarà questo Ecco Questo vi può succedere qualche volta Ma Ridando il comando Vedrete che le cose Se avete fatto le cose correttamente Funziona Ok Bene Adesso voi siete in grado di Inviare un pacchetto Da un pc a un altro Passando attraverso un router La prossima lezione Vedremo qualche cosa di più Sempre su questa configurazione Vorrei solo Ricordarvi che in ogni momento Potete salvare Tutta Esportare questo file Che è .ptk In una cartella Che volete voi Chiamiamolo Scenario 1 E così non dovete ogni volta Salvare tutto Alla prossima Sì E così non dovete ogni volta